Il risultato della Fabricio non va a 9,750, mentre ha già iniziato la sua prova al corpo libero Svetlana-Corcina. Appena 15 anni. La Corcina ha un fisico che ricorda più la ginnastica ritmica che non quella artistica. È vero, è una ginnastica bellissima. È molto alta, con una classicità più che normale per una ginnastica artistica. È una presenza di una ginnastica bella ritmica, ma io credo che l'apprezzo che lo rappresenta, lo rappresenta a parallelo. Al corpo libero è una ginnastica comune. La Corcina che ha vinto un oro europeo e un argento mondiale alle parallele, è sapervenuta anche al volteggio. Spettacolo coreografico ma qualche problema.